Il fenomeno della guarigione In questo film si parla dell'insegnamento di Bruno Gröning, come lo potete integrare nella vostra vita e come, grazie ad esso, potete riacquistare la salute e diventare felici. Persone da tutto il mondo riferiscono come sono guarite grazie all'insegnamento di Bruno Gröning, anche se non hanno potuto conoscerlo di persona. Mi visitò tre volte e alla fine disse, non è possibile, è impossibile. A poco a poco iniziò a riprendersi, il mal di testa sparì, la respirazione mirò e il sonno è ritornato. E alcuni giorni prima feci delle radiografie. Il dottore le guardò, le confrontò con le precedenti e non ci poteva credere. Le riguardò ancora e disse, amico mio, sei guarito, è incredibile. Potrete vedere come è strutturato ed organizzato il circolo degli amici di Bruno Gröning e i vari ambiti che lo compongono. La premiere si terrà prossimamente su YouTube e siete tutti cordialmente invitati. Nell'attesa vi auguro un periodo meraviglioso, ogni, ogni bene. Nell'attesa vi auguro un periodo meraviglioso, ogni, 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 Grazie a tutti.